Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori borse da donna. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 delle migliori borse da donna. Quindi cominciamo con la borsa da donna Desigual. Iniziamo questa top con la bellissima borsa da donna di Desigual. Desigual è uno dei marchi di moda più famosi al mondo. Il marchio spagnolo è noto per i suoi design originali e i colori vivaci. Ovviamente essendo un marco importante nel mondo della moda di fascia media si è diversificato e ora offre un'intera gamma di prodotti. Tra questi diversi prodotti ci sono le borse. Ecco quindi una borsa bellissima e perfettamente realizzata. Ecco una borsa discreta in nero molto bella e di classe con la scritta del marchio sulla borsa. All'interno della borsa troviamo disegni originali tipici del marchio. Sul lato della borsa è presente anche un inserto rosso che aggiunge un tocco di originalità alla borsa. Infine sappiate che al momento la borsa è in offerta speciale e vi costerà solo 50 euro. Poi troviamo la borsa da donna Guess. Passiamo ora a un altro marchio di moda molto famoso il marchio Guess. Guess è un marchio noto per i suoi capi di abbigliamento che hanno spesso un design simile a quello dei marchi di fascia alta ma i prodotti del marchio Guess sono sempre venduti a un prezzo molto conveniente. Qui troviamo questa bellissima borsa di Guess in colore nero molto liscia e lucida. Ha un aspetto molto lussuoso eppure viene venduto a soli 100 euro. L'interno è molto pulito e sufficientemente ampio per riporre molti oggetti di uso quotidiano. Per una maggiore sicurezza è dotato di una chiusura a zip per assicurarsi che non cada nulla o che non venga rubato. E per finire ecco la borsa da donna Michael Kors. Per concludere saliamo un po' più in alto con il famoso marchio Michael Kors. Questa volta abbiamo più di un semplice marchio perché Michael Kors è soprattutto un rinomato stilista. Conosciuto per il suo lavoro con Versace e Jimmy Choo, Michael Kors decise di lanciare la propria linea di abbigliamento e accessori negli anni 80. A differenza delle costose griffe Michael Kors ha voluto creare un marchio di lusso ma a un prezzo ragionevole per rimanere accessibile al maggior numero di persone. E' il caso quindi di questa bellissima borsa. Naturalmente il prezzo è più alto rispetto al modello precedente ma quando vediamo la qualità siamo davvero soddisfatti del rapporto qualità prezzo. Questa borsa è molto spaziosa e il design è davvero bello con questi colori marroni perfettamente eseguiti. Gli iniziali del marchio sono disegnate con discrezione sulla borsa e conferiscono originalità e classe. Ecco grazie per aver seguito questa top 3 spero che ti sia stata utile non esitare a mettere un like un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.